Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con la nostra umile lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec, Ili Spiriti. Oggi pregheremo per il ventinovesimo nome di Dio, Reiel. Questa è la preghiera, Reiel. Dio pronto ad aiutare, Reiel, Signore che mi hai scelto per essere il veicolo della Tua parola, vede che la mia anima conserva la purezza necessaria per la manifestazione del suo pensiero. Purificami dalle impurità, dalla congestione causata dalla mia personalità mortale, in modo che la Tua corrente, la Tua luce possano fluire liberamente dentro di me. Sbarazzati dei nemici che possono rappresentare un freno, un ancora su quel percorso e gli amici che mi tengono prigionero dei falsi valori. Preparami un posto per meditare e riempimi di zello per diffondere ciò che il mio essere reale rivela. Non permettere che il mio comportamento tradisca ciò che mi induce a proclamare a parole. Signore, Reiel, incoraggia la mia ansia di arrendersi e lascia che io sia un distributore della Tua mano destra, delle Tue virtù. Amen. Ebbene, oggi riflettiamo su questa domanda perché Gesù ha reso grazie a Dio per aver rivelato i Suoi insegnamenti ai semplici e ai piccoli e non ai saggi e ai saggi e prudenti, apparentemente più capaci di comprenderli. Questa è una buona domanda, no? Buono, misteri nascosti ai doti ed ai sapienti. In quel tempo Gesù prese a dire ancora Ti rendo l'odi, oh Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose ai doti e ai sapienti e le hai rivelato ai piccoli. Questo ha detto San Matteo, capitolo 11, versetto 25. Può sembrare strano che Gesù ringrazi i Dio per aver rivelato queste cose ai piccoli, che sono i poveri in spirito, ed averle nascoste ai doti e ai sapienti, che apparentemente sono più adatti a comprenderli. Il fatto è che occorre capire queste parole, poiché egli intendeva, parlando dei piccoli, riferirsi agli umili che si umiliano davanti a Dio e non si credono superiori a tutti e parlando degli altri voleva indicare gli orgogliosi, pieni di vanità per la loro scienza mondana, che si credono prudenti perché con la loro negazione trattano Dio da pari a pari, quando non lo rinegano. Nell'antichità Dotto era sinonimo di saggio, ed ecco perché Dio lascia a loro la ricerca dei segreti della terra e rivela i segreti del cielo ai semplici ed agli umili che si inchinano davanti a Lui. Ebbene, abbiamo terminato la nostra lettura di oggi, spero che ti sia piaciuto tanto quanto a me. Dio vi benedica a tutti. Baci. Ciao.